Eccoci, siamo in Albaro e precisamente in via Orsini. Via Orsini è una via estremamente comoda per la sua vicinanza a tutto, quindi supermercato, negozi, fermata dell'autobus. L'appartamento che ora vedremo è un appartamento di piccole dimensioni, completamente arredato, un appartamento sicuramente molto adatto a una giovane coppia, a un trasfertista, a uno specializzando, e ora lo vediamo per bene. Dall'ingresso intanto mi sono portata in questa prima stanza, che può essere utilizzata come una zona salottino, una stanza ospiti, comunque uno studio. L'appartamento è posto a un primo piano, quindi un piano basso, ma vedremo nel corso della visita essere un appartamento molto luminoso. anche per la presenza di molte finestre, ma anche per la sua esposizione. Da questa prima stanza ci portiamo verso la zona pranzo e cucina. Abbiamo quindi qua una zona propriamente cucina, quindi lavello, fuochi, forno, capo aspirante, e poi una zona più contenimento col frigo, la penisola, quindi il tavolo. Ricordo che antistante al palazzo abbiamo una zona dedicata a parcheggi, posti autocondominali non assegnati, però, e posti moto, quindi una cosa molto comoda, ulteriore. Qui abbiamo il bagno, un bagno con doccia, abbiamo anche lo scarico già predisposto per la lavatrice. E infine la camera matrimoniale, una camera di generose dimensioni, ampia, spaziosa, attrezzata di tutto. E quindi, ricapitolando, abbiamo visitato un appartamento in via Orsini, Siamo a 47 metri quadri, commerciali, ingresso, prima stanza giorno, una zona cucina-pranzo, una grande camera matrimoniale, un bagno, ricordiamo che abbiamo anche dei posti auto e posti moto condominali, e qui possiamo concludere la nostra visita.